L'energia elettrica è l'80% e il gas è il 34%. Complessivamente, facendo una media dei costi, siamo intorno ai 15 milioni di euro e un 49% in più. L'ospedale è una delle aziende più energivore esistenti dove macchinari e impianti di refrigerazione sono accesi H24. L'Ulse Trevigiana ha quantificato il colpo, l'aumento dei costi di circa 15 milioni di euro. La spesa per l'energia elettrica passa da 9 milioni 888 mila a 17 milioni 750 mila. Quella del gas da 19 milioni 830 mila a 26 milioni 550 mila. Costi più alti per i nosocomi di Castelfranco e Pieve di Soligo. La media degli aumenti si aggira intorno all'80%. È chiaro che noi prima pagavamo anche meno perché avevamo i progi financing che avevano sostanzialmente bloccato il costo sia dell'energia che del calore e si rapportavano solo la lista legato ai carbonanti. Oggi con questa implementazione è chiaramente il mercato sostanzialmente saltato. Già pronto il piano di risparmio che coinvolgerà soprattutto ambulatori ed uffici dove è consigliato spegnere gli apparecchi, pc e stampanti piuttosto che lasciarli in stand by, abbassare il riscaldamento di un grado negli uffici e abbassare ulteriormente una volta terminata l'attività uniformare gli orari. Ma lo chiediamo proprio come principio etico. È chiaro che nelle aree dove c'è l'adegenza o dove queste devono essere mantenute. Corridoi, sale d'aspetto non utilizzate, va spenta la luce, va evitato ovviamente di fare una dispersione energetica per niente. È chiaro che noi rientriamo certamente di 15-16 milioni di euro ma sicuramente parlando almeno con il mio ingegnere al quale ho fatto ovviamente la domanda, un paio di milioni di euro sicuramente se tutti ottemperano quanto andremo a scrivere e a spiegare potremo risparmiarli. La struttura più energivora ad oggi, l'ospedale di Conegliano, molte le aspettative invece di risparmio per la nuova cittadella sanitaria di Treviso dove sarà installato un impianto fotovoltaico.